Sì, è veribile il giorno per la Ford Pinto di Stefan Caruso! Applausi al pubblico per la Pinto! un po' di segna è la tua parola in Vigia Tarugni questo fantastico sleet shot front engine di Chrysler allora aspettiamo i tempi di città dell'IRS stanno diventando delle squadre di riferimento come vedete Babayaga corre col motore al cilindri di terra la nostra parte è una bestura incredibile E' un'altra parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.